E' pazzesco, dobbiamo dire di sì a tutto, adesso facciamo pure il coso, vuoi che faccio pure la preghiera? Mi metto qui a fare il ramadan? Che cosa vuoi che faccia? Vuoi che faccio inshallah, 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 cosa vuoi che faccia? Mi metto qui a fare così, mi metto qui a fare Allah o Akbar, Allah o Akbar, che cosa devo fare? Perché devi insultare un numero di giorni, perché devi insultare per loro? Allah o Akbar, Allah o Akbar, ma perché devi pronunciare? Ma nessuno ti chiede di fare così, perché devi pronunciare il nome di Dio in mano per loro?